ciao sono mietta siamo con mtv per celebrare a modo nostro i cent'anni del cinema lo faremo con dei film cortissimi dei videoclip di registi internazionali avremo ospiti dei registi italiani iniziamo subito con film movie mtv cine party continua con un regista italiano giancarlo soldi eccolo qua lo presento un grande amore per la musica quindi quindi il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va è una delle più belle frasi del novecento italiano e a me piacerebbe tanto fare un film bello come questa canzone invece ho fatto un altro film che si chiama nero che è un film molto musicale anche se non si vede nessuno suonare perché l'ho costruito sulla musica dei mau mau cosa c'entra secondo te la musica il cinema il cinema raccoglie contiene in sé pittura e musica e questa è la bellezza della cosa quindi la libertà facciamo un urlo per la libertà dai uno due tre farei che cantate io ho diretto la cosa no devi fare anche te no non faccio però è vero insomma il concetto di libertà è vicino è contenuto alla nostra musica per cui ok adesso hai voglia di farci vedere tutti quanti noi il video adesso si salta rabele mau mau salta 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 rabele resta senti che arriva il bibel ecchi 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 l'uomo è l'acqua e il mondo una sauna sudare evaporare deve sempre rigenerare bella mala fest bella mala fest bella mala fest bella mala fest campo molesto scappa grossa lupista campo 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 tempi d'auta presiughe di ritmi di gesti palpita sui banchera le stele pica 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 con i pe con le pene deployed l'uomo è laہ il sur capica l'uomo è la la il l'uomo è l'uomo è l'uomo lo tocco è durace pari morti più forti sentervi dielexo casualiteto pra assunto fino per dizendo pica 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 team Salta, 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 Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, salta, Rabel! Salta, salta, Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, salta, Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, salta, Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, salta, Rabel! Salta, salta, Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, 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 Rabel! Salta, 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 profile! Salta, salta, Noel! Salta, salta, PM! Cinema in pillole, ci vediamo dopo, tra un attimo. Lens selection will affect the mood and design of a video. Long lens. Wide lens. Zoom lens. Macro lens. The juxtaposition of shots can create new and unexpected meanings. Jump cut. Resolve. Split screen. Blue screen.